Technowool Rugby Park. È stata intitolata così l'area verde di 6 etteri in via Scarpellini, che sorge attorno ai due campi della Fiorini Rugby Pesaro. Oltre al toti patrignani in erba e al catalani in sintetico, il parco prevede anche un'ampia area verde per gli amanti dell'attività fisica, una palestra, gli spogliatoi, la clubhouse e le strutture di accoglienza. Oggi siamo qui a togliere il lenzuolo dall'insegna che abbiamo posizionato a bordo di quest'area. È un rugby park, l'abbiamo chiamata, seguendo la moda anglosassone dei campi da rugby, anche perché di fatto due campi in erba, una zona verde si presta bene ad essere nominata in questo modo. Ecco, è sempre più un punto centrale di questa città. Ci sono dei giorni che solo per il parco, il parcheggio è pieno di auto e quindi sta diventando un luogo centrale, una seconda grande zona verde dopo il Miralfiore. Quali attività si possono svolgere all'interno del parco? Ci sono diverse strutture. Intanto noi ci occupiamo di quella del rugby e abbiamo un'attività agonistica con una prima squadra in Serie A, ma abbiamo tante attività per ragazzini di tutta l'età che vogliono iniziare questa pratica e giocare al rugby. Qui vengono a passeggiare tantissime persone. Ci sono strutture anche da Calesteni qui vicino che sono molto scelte dai ragazzi per passare il loro tempo in qualsiasi condizione atmosferica. Veramente notevole l'impegno che mettono. È una zona che merita di essere frequentata sicuramente, ma il rugby è la cosa che a noi ci interessa di più e quella per la quale stiamo lavorando tanto, insomma, diversi anni. TecnoWool opera nel mondo dell'efficientamento energetico ed isolanti di materiali da costruzione. Nata a Milano nel 1988, l'azienda si è poi espansa insediandosi anche a Pesaro due anni fa, riscontrando grandi soddisfazioni da parte dei clienti dell'impresa. Un rapporto che con la città si è consolidato, divenendo il secondo sponsor più importante della Pesaro Rugby dopo Fiorini. La nostra visione aziendale, il nostro tipo di organizzazione, ripeto, è stato molto semplice affiliare e seguire il progetto che Simone Mattioli, in qualità di presidente, ci ha proposto, insomma, quello di intitolare questa meravigliosa area, insomma, di sport ricca di entusiasmo, di giovani alla nostra azienda, che è un modo, da una parte, anche per dare un segnale di riconoscenza alla città che due anni fa ci ha accolto quando abbiamo aperto la sede di Pesaro ed è un modo anche per avvicinarci sempre più, anche noi, imparare dal mondo del rugby a come si sta insieme e come si portano a casa gli obiettivi.